Stiamo completando le consultazioni dopo aver ascoltato ieri tutti i gruppi parlamentari, tutte le forze politiche che hanno accettato di confrontarsi con noi. Credo che siamo in un punto in cui c'è una buona definizione di convergenza sul metodo che abbiamo impostato, anche su alcuni criteri, per arrivare poi in maniera condivisa all'elezione del Capo dello Stato entro il fine settimana.